Ciao, la mia scelta definitiva di amarmi allontana l'ansia dalla mia vita. So che sembra banale e scontato questa frase, ma talvolta proprio perché sono frasi banali e scontate non gli diamo il giusto peso che meritano queste frasi. Ma ti voglio dire che la soluzione più semplice al mondo che esista per uscire dall'ansia è, rullo di tamburi, amarsi e accettarsi così come si è, così come si è. E tu mi dirai, ma bravo Renato, eccolo qua, hai scoperto l'acqua calda. Certo, ma io ti chiedo, se soffri ancora di ansia, tu ti ci butti nell'acqua calda, ossia ti ricordi ogni giorno di amarti, coccolarti, di benedirti, di ascoltarti, divertirti, di prenderti seriamente cura di te, lasciando ogni giudizio, lasciando ogni colpa e colmarti di amore. Difficile? Facile? Dai, ora ti faccio vedere un esercizio semplice per sentire più amore dentro di te e che potrai fare ogni giorno allontanando così l'ansia dalla tua vita. Quindi segui questo esercizio e ripeti insieme a me queste parole che sono molto semplici. Quindi parti mettendo le mani sul cuore, ok, parti mettendo le mani sul cuore e dici scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. Poi vai con le mani, due dita sulla testa e ti ripeti scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. E poi fai scivolare le dita fino al centro della fronte, nel nostro terzo occhio. E anche qua ti dici scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. E poi devo togliere gli occhiali, vai leggermente sotto all'attaccatura delle sopracciglia con le due dita e ripeti ancora, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. Poi scivola dolcemente intorno agli occhi e scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. Poi scivola sotto gli occhi, scelgo di amarmi. Oggi scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. E poi vai sotto al naso, sempre toccandoti leggermente questi punti, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. E poi scendi sotto al labbro, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. E poi ti accarezzi, adesso io ho qua il microfono, ma ti accarezzi bene il collo e arrivi fino a questo punto delle clavicole e anche qua ti ripeti, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi, scelgo di amarmi. E poi concludi rimettendo le mani sul cuore e ti dici, scelgo di amarmi e così è. Perché così è? Scelgo di amarmi e così è. Interessante, vero, come esercizio? Questo è un esercizio che puoi fare tutti i giorni, tutte le volte che vuoi, finché non sentirai rinascere dentro di te l'amore, l'amore per te stessa. E tra l'altro ti voglio dire che questo esercizio è molto potente, è parte di un lavoro di cambiamento che faccio fare ai miei allievi nel percorso Libera l'anima e vola con lei, dove appunto guido le persone ad uscire dalla gabbia dell'ansia e ritrovare la propria quotidianità felice. Cos'altro dirti? Fai questo esercizio ogni giorno e poi fammi sapere com'è andata. E io brindo già al tuo successo.